it sti cazzo che succede cosa c'è questo etico io non lo vedo ma anche boss allora stanno tutti e tre insieme scusa e ma a me diceva se vado sotto il gioco vedi che ciò sta giocando con Kree e boss non c'è forse gli sta steppando il lobby è appena arrivato che palle ah ok scherzavo se vado qui si vede che c'è boss e niente giochiamo noi due ci ho aiutato io eh si oggi è il vento eh si oggi è il vento che? no tutto da fondo di merda chi meno? lo so a solito che un attimo voglio controllare tutte cose fatto retto pronto oh che è successo? ma non c'entro un cazzo madonna non so che non l'hai fatta a forza questa comunque la possiamo disattivare i wifi guest lo disattiva tanto non lo usano più no tua madre c'è ancora connessa no c'erano zero cosi connessi attualmente perchè tua madre è su basta un salato vabbè passo speed test speed test voglio fare lo sta facendo? o devo cliccare da qua? no sta già facendo ah ok per quanto ci mette? secondo me c'è qualcosa che sto perdendo faccio cosi cosi nel momento giusto cosi 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 ma non fanno ah quanto cazzo sei fredda madonna e smetti io te lo spacco il ghiaccio te lo metto in freezer non te lo vado più a prendere smettila te lo metto nel forno si scioglie hai rotto le balle ti giuro ti tolgo il ventilatore ti tolgo il ghiaccio e ti chiudo la finestra no si compi i coglioni ma funziona o no sto cosa? si che funziona ma non prende fino a qui internet vedi sta facendo velocità di download miglia tre quarti d'ora per vedere l'upload e te... mo un'ora per vedere l'upload no un'ora per vedere l'upload e mo vediamo quelli per il download di solito la play fa al contrario prima download e poi upload no modifico la cosa non voglio la faccio da lì secondo me inoltre ho scontato il carico allora impostazioni avanzate lo prendiamo con me grazie no ok ha fatto vediamo 113 megabyte in download 11 in upload chi lo sa... fermati è inutile che provi a... mare devo gestirmi la live come la gestisci il segnale è ottimo dice no volevo semplicemente andare a rispondere al tuo fratello no e la tavola dovevo togliere la visualizzazione si lo so lo so ok ecco ho visualizzato devo curarti due volte con il perinfo con... per il popolo quindi cerca di morire grazie eh e ecco che mi ha detto giusto? a posto che cazzo vuol dire cerca di morire scusa? io devo fare i gen con gli amici stiamo in tre eh si ok bisogna prenderti un hard disk perchè quando ci sono loro mi fa venire in mente For Honor e mi fa venire in mente che For Honor ha una trama tutta in co-op e mi piacerebbe giocarla con te capito? 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 vedi che non mi ascolta ma quando vedo loro mi fa venire in mente che io gioco a For Honor anche con loro mi fa venire in mente che For Honor ha una trama tutta in co-op E vorrei giocarla con te Va bene Sì ti serve un hard disk Per tutte le cose che dobbiamo fare Ne scarichiamo una Ne finiamo una Ne ristallo un'altra Io non mi disinstallo le cose finchè non platino Infatti io sono apposto su quel punto di vista Ci sono cose infinite Tipo hai Rogue Company che già hai tolto Rainbow Dbd Vigor Paladins Cioè queste cinque cose E Warframe Queste sei cose Sono infinite Se adesso quanto c'è il Black Friday Il finto Black Friday Vabbè quello di passaggio Te lo dico che se te lo compro io Vado come regalo di anniversario Te lo dico L'anniversario fa me il condiziatore Vabbè Quello mi ha fatto come regalo di compleanno Guarda posso aspettare Con quelli soldi poi ti compro uno o l'altro Cioè tutte e due Più che altro Sempre la mappa peggiore del grano No Dove siete dove fai i geni in compagnia Madonna Eh il paial Eh si lagga signori Porca No siamo già in tre Scusate Fate schifo Evvivo ho fatto due centimetri con qualcuno Comunque è il suino Il suino Sui sui Oh no Non vedi il mio schermo? Sì lo so è anche il mio Pensavi si ritrovesse Come passiamo se è un negozio Intento perlo Ehm L'incedere Ehm Che 的話 L'abbiamo Rilassare Ehm No Calma Ve Se Se Prima Come che è successo guarda non riprende non riprenderà nel momento giusto oddio l'ho vista teletrasportarsi guarda questo non è l'hack no questo è l'hack no questo è il killer che fa il teleport hai tolto il wifi dal cellulare tu non posso non ho più una rete ah giusto allora niente e perché l'hai tolto rimettilo ma rimettilo tanto sul cellulare questo è stronzo che sta lontano dove sei stata appesa non ti vedo perchè non ti vedo ah perchè sei in culo rimettilo rimettilo vabbè ti vanno a salvare senti la monta il killer però non ho visto a parte che in seguito seguite non so che cazzo sta fa ah stava camperando ah damma cristo di che buono però da me non ci posso credere se l'hai avrei tirato tutti tutti tanti ma 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 ciao ciao levi come va tutto bene eh che devo fatto eh che mal faccio in seguito è vedi non gli frega Abbastanza bene, ho tolto la connessione, che è sempre un problema molto bello, tutto ok. Dai, non mi devi prendere un cazzo io che gli sto finendo e leggendo il faccio. Vuole solo te. Ovviamente ti sono ferito, come ti sono so. Mi arriva a butti e ti faccio andare su Fortnite. Non lo installo. Guarda, ti giuro, adesso metto 100.000 punti, te lo giuro su diro. Vabbè, non ti salverò probabilmente. E invece. Ho notato the dard, non so come. Ti giuro, tolgo quella cosa o metto 100.000 o 1.000.000, te lo giuro. Quella che con 10.000 puoi scegliere il prossimo gioco. Non mi è partito il the dard. L'ho usato troppo tardi, più che altro. Che cazzo stai a dire? Che cazzo? Come faccio una? Ma arrivo a metà. Giuro adesso cambio da scritta, scegli il prossimo gioco tra parentesi tranne Fortnite. giuro si ci metto 6 anni roblox ma non c'è neanche su playstation eppure quello lo toco non mi ha visto GTA e RP non c'è su playstation stai dicendo tutte cose vabbè non me ne frego stai dicendo tutti tu sei bravissimo poi vuoi che ti faccia un moderato io mi credo che devo solo fare i miei seguimenti fino a basso ho smesso metti 10k punti e mi fai morto no oh first try ho solto anch'io first try ma la proia mi ha ritrovata te la rimette sono morta prima te la rimette sui punti e poi tu ci che coglioni ah era la traccia non capivo perché hai ragione eh ora appendimi dai prega la tua casca me ti prego mi ha fatto troppo di punta una cosa dovevo fare una l'ho tenuta 4 gen praticamente mica colpa mia i gen li faccio oh mi è spanto la botola a destra mi ha usato 4 posti gen ma tu immagini uno che mi guarda sui 10k punti e poi dice bene ho i 10k punti fortnite e io non mi dispiace belli i bambini rank credit fortnite non è nella lista ma che rincoglionito madonna ma stai stai da troppo ma stai un attimo papà hai di nuovo sbagliato il gioco vai su re no niente è arrivato gt che poi un ricordine di bocchini vacca insieme a dott spagetti che cazzo stanno facendo gt come padre ha il nemesin come madre ha amanda la picca ma perchè un eme come se gli servisse siamo tutti feriti the forest ecco the forest è una cosa che si può fare ce l'ho grazie a lei prima o poi lo facciamo in coop ce l'hai messo eh di giochi per trovarne uno che io gioco ciò giochere arrivederci a tutti grazie trove è carino ma non mi piace mi stai facendo mi hai già voglia di cambiare le ricompense dei punti canale comunque se entro c'ho il 4 mi sembra carino l'ho finito ma posso rifarlo in live posso faccio questo effetto che poi devi quanti punti fai perchè magari 10.000 è poco non so quanti punti si fanno guardando in quanto tempo non so hai bel noed hai la tua scelta noed e non ha sfruttato né uno né l'altro praticamente che è un coglione beh se sei coglione amore va a me colpo a me i compagni hanno avuto il tempo di fare 4 gen e 5 totem e lei mi ha ucciso vabbè a sfruttato il ricompense scegli il prossimo gioco tra parentesi metto tipo il gioco chiede se possiedo il gioco ah no non posso devo scrivere sotto che padre metti pronto o se riesco a sopportarlo cosa il gioco tipo ho messo nella ricompensa chiedere se possiedo il gioco o se riesco a sopportarlo perchè fortemente percazzo ok visto che non mi fido di lei io per sicurezza lo puoi fare anche a me metto 100.000 ma io parlo anch'io perchè non posso perchè non sei affigliata e come faccio vedere se posso ti ho detto che non sei affigliata e come faccio vedere se posso le impostazioni del tuo canale twitch amore no se sono affigliata dauntless non mi piace troppo non l'ho mai provato però è tipo monster hunter monster hunter è carino però non è che sono affigliata madonna santa io gli sparo a questo io tutte ste cose le ho fatte da solo non c'era nessuno a insegnarmi ad aiutarmi no perchè 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 se sei andato ti guardi la partita non so neanche di che cazzo parli ora mi spieghi perchè tu perchè avrai messo scusa sempre se io vado qui mi apre l'app e io non voglio che mi apra l'app cosa cazzo hai fatto bene amore non puoi fare un cazzo no perchè prova da qui qui non si apre l'app ma grazie rinompiamoci i coglioni vedete mi basta male cazzo me ne frega dell'italia a me santa i tuoi coglioni non posso neanche guardarmi la chat non posso stare tranquillo comprati un ipad con i soldi di tua madre madonna twitch non il mio ah beh è uguale tu accendi quando appare per accendere non lo ricordo e vabbè allora vai affanculo cioè io te lo dico no aspetta forse me lo ricordo è già in chiara no c'è una live sottofondo dietro no il nome utente non l'email ma questa è rincoglionita allora puoi farmi fare una cosa perchè mi da un fastidio nero grazie allora no aspetta ce la faccio no non sbattare sta contro il mobile dovrebbe essere questa intanto puoi fare surf dammi il controller madonna santa lo faccio io perchè sennò qua devi fare la live aspetta madonna santa si cammina prego metti a 3k punti sfidami così facciamo uno più uno su fuoco il cazzo proprio ma non dirlo ad alta voce vabbè vabbè che non sapete che cazzo parla però coglianni video ok ora ora metti il pronto su dbd ora metto il pronto su dbd madonna santa questa ce l'ho pure io lo strappo di dittino dove? dove ce l'hai questa cosa qui? sul telefono ah si? dove? adesso me lo dici adesso lo chiudo perchè hai detto che ce l'hai sul telefono no ah non puoi perché non sei affigliato e come faccio se vado a figliare devi avere una media di 3 spettatori è una cosa che ti manca come faccio per una media di 3 spettatori? vuol dire che devono stare 3 spettatori in live per un po' di tempo almeno 3 fine se non sei in live questa cosa non ti aiuta possiamo fare un cambio? di che? io live no ti inculi avvi la live e non rompi le palle quando crash l'area avvi come ho fatto io in tutti questi anni io adesso tengo 99k punti ma che cazzo come è possibile? a parte che non gioco a forn a prescindere tu adesso mi spieghi e devi quanti punti si ottiene normalmente adesso metto che ottieni un punto ogni volta si può fare? metto che ottieni un punto ogni volta madonna no non posso decidere amore guardi la mia live perché? perché tu gestisci la mia live e io così io gestisco la tua così usa questo cazzo di cellulare amore già mi dà fastidio che devo partire ogni volta che devi accedere alle cose non posso scegliere mi sa no non posso scegliere quanti si ottengono qui non saprò mai quanti si ottengono proprio fai un game da killer poi ma c'è lei nei game da killer ci stanno tre anni per essere trovati scusate venite anche da me io devo avere la media di tre spettatori per essere affiliato mi manca solo quello qualcuno venga perchè non hai aperto la tua cellula ah perchè c'è lì eh no perchè mi crasha si a parte c'ero lì mi crasha poi fai uno v uno ancora ah io contro i lei ma che cazzo è che merda è uno v uno su rainbow amore prendo blitz lo uccido blitz non night quanto era bello fare un uomo con night mi dici di venire da me sono simpatica amore amore forse tu non capisci una cosa se muovono il cursore o se giochicchiano un po' con il dito che stanno da cell hanno il tuo cazzo di canale ma nessuno viene perchè non vogliono che cazzo ti devo dire madonna santa amore ho vengo amore ma pensi che tutte le live che ho fatto io tutte tutte quante ho 20 spettatori no sai quante live ho fatto senza manco uno spettatore mh mh mille probabilmente sì ma ne hai una che è bastato a farti diventare affidato ci credo ho giocato a un cazzo se vuoi andare vai ho giocato a un gioco da a un gioco appena uscito day one figa io gioco a fortnite giuro non ce l'hai neanche installato lo installo con quale memoria cosa togli vieni qua sul gen se ti sfruttassi te la coniglia sua madre per avere tre spettatori vai a chiedervi non so se vale se non hai iscritto a switch sappi non so se vale se non hai iscritto a switch comunque io ci stavo sempre 99% non so nevi che ci sei 99% delle volte ma se in realtà non si sento da un paio di giorni io li avevo fatto questi giorni non mi vuole ma se è uno detto è uno dove vai dove sei vabbè che cazzo ti fai vedere dal killer perché non mi segui madonna aspetta mi spieghi perché non mi hai seguito lo ti pare seguivi il killer non ti beccavo ecco vedi vedi devi non ti ringrazio nemmeno è in inseguimento non potevo guardare la chat allora spiegami perché io in inseguimento riesco a guardarla da lì e tu che ce l'hai accanto non ci riesci oh mi aschi comunque del pollo non lo porta davvero gli fa cagare non davvero non mi fa cagare porta neanche se ho giocato per un bel periodo gli fa cagare fino alla quinta se ho scelto quello di spallato perché ha iniziato a riempirsi di minchiate penso poi non ho mai imparato realmente a costruito a sparare da dio ma dici che un giorno imparerai a mettere le gambe su qualcos'altro agli fuori di me no io adesso tolgo il nutellone tolgo la scala santo non ti servono no no ho un sacco di skin questo si anche salva il mondo sono bravissima sono lontana non me ne frega un cazzo visto che ti sei separata da me secondo stadio grazie della flashbang non hai cercato me non so perché cazzo la tirata ma chi? oppure un ancora livellato vabbè in genere era quasi finito vabbè mi piacerebbe iniziere di forest cioè in realtà io volevo portare in tutto l'esiste in ingles non si ce la paga perché è un pezzo di quello nuovo io l'ho preordinato quindi dovevo portare una volta tutto insieme poi volevo portare the forest come cazzo si chiama il little hop con l'altro o era middle hop non ce l'hai middle hop non l'abbiamo tutta ma ce l'hai no comunque portare il little hop e poi vieni da me come sapessi dove sei no non farti curare vieni da me io devo usare per il popolo cosa ha fatto lì? ma lo so ma non so a che gen sei figa beh mi ne prendo guardi c'è un'ultima gatto vabbè ho provato a portare i mani ho un po' di più in realtà abbiamo portato appunto il primo da sol perché mi sembrava venire da belissimo no è vero fai io che ti ho rotto il bale si deve andare tra tutte e due e buona male addio Levi e non tornare così a casa e che cazzo Steve guardato vaso di merda no c'era pure un vaso dove sei no mi sono curata e vabbè si ma mi devi vabbè non vengo ancora per il popolo non voglio usare per il popolo allora me ne vado no non lo so no no me ne vado Leon merita di morire per l'acciacamento ovvero il mio sta arrivando e vabbè il the dart ovviamente ma hai già fatto il trofeo tanto non cambia un cazzo se scappa vabbè Steve Steve è un coglione comunque recupero per i punti tu comunque avresti dovuto aspettare che mi raccogliesse non so perché sei giampata così perché non pensavo a recuperarsi lì così in fretta lo usano in tanti save the best for last for us beeeel of her bag beeeel of her bag beeeel of her bag io voglio vedere i perchi voglio essere sicuro della save the best for last io anche io e la scappa o muori Steve decidi poi che cosa c'è come ciondo non capisco che ciondo è quello sembra un falò un falò? forse perché ha giocato dacso non capisco che ciondo è che vuol dire tutto il cazzo non capisco che Mamma Comunque applauso abbiamo superato le 2000 visualizzazioni su Twitch Sono a 2003 Che c'è? Un bacio Vieni Guardate, fatti vedere la faccia Fatti vedere la faccia Eccola L'avete visto un centimetro della sua faccia Se volete vedere il resto della sua faccia Scrivete tutti i gioca a Dark Souls 2 Cosa? Che fatti vedi ancora giocare il 2? E il 3? E Zalbo? E Sekiro? In realtà io avevo un po' di voglia di Sekiro in questi giorni Per fare le cose extra uscite Perché tu non lo sai Ma era uscito un aggiornamento che aggiungeva cose a Sekiro Un anno, un anno e mezzo, due dopo Un'uscita C'è la boss rush su Sekiro C'è il... Dopo un tot hanno fatto uscire questa cosa qui Che dice Ehi, tot che abbiamo modificato alcuni boss Per renderli più fighe e forti Ti va di incimentarti in questa sfida Che richiede che tu vinca contro tutti i boss Di tutti i boss del gioco Uno di fila all'altro Senza mai morire nemmeno una volta Eh? Eh? No Come no? Mi hai preso la sfida? Mi hai preso la sfida? No Mi hai preso la sfida? Ah no E' rincoglionita Che giù Ti mancano pochi livelli avrei detto Sarei 62 Pochi? Che tu coglione Posso portare due di figami? E pensare che mi mancano... Mancano alcune sfide della seconda e della terza E manca ancora l'uscita della quarta Quando è che esce la quarta? No, mi mancano solo le sfide da killer della seconda Ehm... Che non ho fatto Stana eh Glielo tre Glielo quattro Tra tre giorni Punti sangue per livellare Poglio lì non è nemesis al prestigio 3 Sei un bimbo scemo Perchè? Perchè lo decido io Aia Mi picchia Mh mh, arrivo subito Perchè? Più lì Chè Perchè? Chi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha detto poverino il ragno. Lei ha paura dei ragni ma gli prende col tovagliolo e li butta fuori dalla finestra. Sì, io gli do fuoco ai ragni. Penso, mi hai fatto uccidere un animale del quale l'insetto che mi fa più paura e il mio animale preferito allo stesso tempo. E' particolare o è strano che il mio animale preferito sia anche quello che mi fa più schifo e più paura? Un po' penso sia normale. Perché è figo, cioè, può arrampicarsi. Può vedere un sacco perché ha tanti occhi, ha tante zampe per fare i salti e le pose. Animali preferiti e la coccinella tanto quanto la farfalla, a me fanno entrambi paura. E poi fai ragnatele per arrampicarsi, cioè è figo. Per lanciare, cioè, un ragno volendo può fare un salto e poi tirare la ragnatella per arrampicarsi. Cioè, è figo, capito? Io mi ricordo che avevo un'amica coccinella. Con Loredana devo aprire un cancello d'uscita. Io avevo un'amica coccinella. Era, era, mi sembra che era tipo mezza ferita sulla finestra. Non riusciva più a volare. L'ho messa in una scatola del gelato vuota. E giornalmente gli dava i pezzettini di lattuga. E mangiava, e mangiava, e mangiava da salutare. Da un certo punto è riuscita di nuovo a volare, l'ho messa sulla finestra, l'ho salutata ed è andata. È durato per un po' di mesi questa cosa. Non penso che non me lo scorderò mai. Non mi sembra di avergli dato un nome. Mi fa solo piacere averla aiutata. Non credo che però mi discolpi dagli altri 350.000 omicidi di insetti che ho fatto. Sicuramente alle corcinelle puoi dare anche le zanzare. Sicuramente prenderò una zanzare da... Ecco, il ragno avrebbe uscito le zanzare. No, ha ucciso le mosche. Avrebbe uscito le mosche. Adesso vi rifaccio la scena. La descrivo. Stavo lavando i piatti. E fa, vado un attimo in bagno. Apro la porta. Chiude la porta. 3, 2, 1... E io... Che c'è? Io che... Una cosa può essere per cui urla così. In 3 secondi ho intuito... Ah, ok. C'è un insetto. E io... Esci! E lei... Non posso! Sulla porta! E io... Ok. Stai lontano. Apro la porta. È un ragno! Tiro fuori le armi pesanti e l'ho ucciso. Le armi pesanti sono lo spursino, se c'è. Mi voglio un gelato. Perché? Tieni a tua madre quanto è distante una gelateria da qui. Oh Gesù, chi è o tu? Non mi rompere le barri. Oh Gesù, che schifo. Perché? A me fa schifo il gelato. Perché ho qui un gelato? È freddo. Ma il motivo per lui mi fa schifo. Davvero? Sì. Non lo spagliare, che cazzo ne so. Che schifo comunque. Bevi cosa? Bevi, se non lo spagli, lo bevi. Che schifo il gelato, madonna. Massimo, massimo un ghiacciolo alla fragola, ma neanche perché... Beh. Io sono il tipo che mangia la minestra in quest'anno. La minestra calma, che si può spiegare. Io l'estate mangio la granita. Ah, abbiamo un portatore di malattie, diciamo. Ah? Abbiamo uno che sta ferito sempre. Oh. Nessuna pega main. Madonna. Il diritto di essere lunga. Ah, perché perché sto giocando? Cosa? C'è il lago? Tu dici? Dove cazzo sei finita? Eh, riquadre le pietre, dove sono andata? Eh, dobbiamo fare gemma, donna. Non c'ho neanche vista, ho molto visto dallo schermo. Perché ha fatto una maledizione a destra? Ah, c'è un po', quindi. Dove cazzo sta un gem? Lo ho detto, poi, dici. Dov'è un gem? Ovviamente. Vabbè. Io non ho finito mai la spia dei gemi insieme, ho capito. Ah, starò pure rudo! Ah, questo è un po' oppure ru便. ma cazzo c'è il tetto è morta di terra e non sarà cosa c'è unisciti a me lo porti qua io ti meni dov'è il totem? madonna come si... dov'è? dov'è il totem? eh non lo so dov'è là sull'albero stavranno ed ha solo agitazione è una mozza di perro quello coglione che palle no forse non vuole che li rompiamo perchè è ruin and dying se non vuole che poi non vuole ah si giusto è morto 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 si voglio provare ho provato un altro io e vabbè non posso ma dai ma che palle ma ti pare normale madonna quella puttana di claudette colpa sua va per forza andare a terra no sei liberato almeno sei toolkill? no no bravo guardami possiamo guardarmi? possiamo guardarmi? possiamo guardarmi? possiamo guardarmi? perchè culetto non mi fido? ma c'era con me no no ah voglio cos'era? l'ho visto cosa macchina qui? qui l'hai visto dove? devo andare ma stai venendo pepsi di noi ma e che cazzo ne so io come devo andare a fare il save cosa? vabbè vabbè mandavi claudette? vabbè vabbè è una partita persa posso venire da voi che da gt se giochi con noi si se non no trappero uguale best internet ma mica è lui che allarga siamo no è stato il bello il lagio che io mi sono fermato per curarlo e mi sono ritrovato dal lato opposto di non è che era non lo sto trovando non lo trovo più chi cazzo? non lo trovo più il tot fa notte oh bravo vieni a salvare vieni a salvare eh io non trovo più il tot adesso viene qui va lo cazzo era? dov'era? non lo voglio dov'è che cosa stai? allora non lo trovo hai d'hova far aspera mi tendo a dare no Devo curarti o no? Devo curarti o no? Devo curarti o no? Anche se non sarebbe meglio di no per fare il foto, è più in fretta. Esca laudetta non è mai stata appesa, ora laudetta non è stata appesa. Barbecue? Ah no, ok. Però mi faccio special account. Eh vabbè, vai. Non vuole me ne fanno tanto a tutti. Sai che ti dico? Sono una morta, sono una morta. Ci arrivi? Sì. Vabbè. Grazie del... Hit. GP, stai nella mia live che ho bisogno di tre spettatori bitti. Non stai da Riccardo se ci sono anch'io in live. Castivo. Non puoi stare da te, scusa. Si cazzo adesso? Decide lui. Ah, tre bit. Grazie. Grazie dei tre bit. Oddio. Di 4 bit. Sì. Niente, è impazzito. Fa uno alla volta perché così almeno... GP a me non puoi donare niente, non sono tre spettatori fissi. Guarda, io ne ho tre in questo momento. Muaah. È il mio canale famoso. Basta, sono forte figlio. Sì. Ah, che ho detto è una scossa, l'ho fatta nascondendo. Niente. Ah, ecco. Fatta uno i bit. Grazie mille JP. E grazie, grazie ai tuoi bit sono riuscito a liberarmi, pensa. I bit mi hanno salvato. Per 5 secondi. Quindi sia. Ho anche sbagliato a strada. Dona né altri, magari mi libera di nuovo. Grazie dei bit. Sì. GP! Vedete chi sta con me vero Gilbietti? Infatti ci ha dato sui bit. Non puo' darmeli. Oh, ops, che peccato. GP sta da me perché se non ho nostro spettatori fissi non posso essere affidato da qui. Manca solo quello di obiettino. Senza, se tu avessi la tua idea aperta sul ciludare probabilmente saresti a tre. non posso venermi aperto che peccato è una piece of shit mi ha chiesto una cosa J.K. guarda come c'è accanto vabbè non posso metterli se non sono affigliato opp se è vero non posso metterli se non ho quindi tre spettatori non si può solo che tre spettatori non si rio mai praticamente tutti quanti si spostano da Riccardo perché Riccardo è più simpatico anche Federica è diventa affigliata togliamo a Federica sono gli unici spettatori che potrebbero farla diventare affigliata sono io che devo aumentare che sono già famoso il suo sguardo è la Mona Lisa io l'ho ammazza non puoi mi ha già ucciso il trap vabbè dove andai in parte comunque dove mi ritaggia è qui ho capito non ce la fai a stare in parte sei tu quella che non riesci mai a stare in parte che cazzo vuoi da me dal mio live va liscia cioè la go in game ma la mia live sta andando vuoi ucciderlo ok posto basta intanto devo comprare una cosa spieghi che mi racconti che vuole essere imitato in parte che vuole essere imitato in parte alla fine morim tutti quanti io penso in questi giorni finito il passo di attenzione signori di bd signori io qui lo dico e qui lo nego attualmente ho 6,36 dollari aspetta ti invitiamo a noi in quali categorie piacciono i miei spettatori allora minecraft quattro chiacchiere fortnite full shot tabs non so non sai cos'è no sai che tipo mezze nude che parlano mentre stanno nella piscinetta no perchè l'uno per cento hanno fatto delle clip perchè chi ha fatto ste clip sono curioso voglio vedere muotati muotati però perchè 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 si saltano e che cazzo vuol dire ma il mio canale cosa cazzo vuoi da tanto che non lo tieno ma come sta dark lo sento lo sento poco ma jp non viene in party non fai party non posso farlo il party l'ho sentito poco l'ultima volta che l'ho sentito mi ha chiesto di vedere un film ma io ero due di morale ma veramente un sacco e quindi gli ho detto di no per il resto penso stia bene ma appena lo risento gli farò sapere che hai chiesto di lui si sono curioso delle clip che le persone fanno però devo che tu mi sa eh perchè non sento niente non c'è la cuffia ok si ma mutati oh gesu ma è la mia visuale no è la mia e no è la tua si ho trovato le immagini ma è una maggior parte di un follower ma non parli anche da me eh no ma ha semplicemente salvato il fatto che ho detto che non mi posso ricordare i miei follower mi ricordo della maggior parte sono curioso ho trovato le immagini che ho trovato perché ho trovato le immagini che sento un cazzo che non puoi da affoncarci ma mi ha trovato i miei symbol mi sento un cazzo vado a quant'oglio sta parte eh ecco lì, ne abbiamo due, è vivo che cazzo è successo? oh merda aspetta io dovevo vedere tutti gli altri so prima di vedere Spira a livello di film non so un cazzo cioè io non guardo effettivamente film guardo Kate Am vabbè JP per me i giochi bellissimi sono ok penso Iron Heart si chiama una cosa del genere quella cosa lì russa molto sia che non uscirà mai io non l'ho vista perché devo essere sincera non so che giochi è e The Ring Evil Dead The Game e poi Stalker 2 che però non posso giocare e invece una cosa simile a Stalker 2 che potrò giocare è Chernobyl Light io non ne ho visto neanche uno perché mi fanno senso infatti li devo vedere io per cazzo mia poi io per cui non ho finito Outlast oltre che mi fa paura veramente è perché ci sono i ragni no ci sono scene che mi mettono ansia no ma se ti sei visto qualcuno mangiare un'altra persona ma era morta quindi va bene sì mi fanno senso le scene segnatevelo segnatevelo lei ha detto che va bene mangiare le persone morte no io le ho detto riesco a guardare scene in cui ci sono persone che sventrano uccidono persone morte tipo che ne so gli zombie o letteralmente cadaveri ma perchè ti fa senso il semplice fatto che ti fa pensare minchia deve fare malissimo sì questo mi da fastidio e penso cazzo quanto fa male io invece dico e continuo come se non la fosse no io non ce la faccio la pratica inizio sono certo ok che più continuo a mettere la mia emote che bravo ragazzo di chi sta male morto di ricchi perchè? oh il nemesis perchè? un uomo in cui un vaccino una bella persona che sventra altre persone più di una in realtà non mi piace il dlp eccolo che arriva no no papà vai da suo figlio vai da suo figlio cosa ha fatto? però c'è il time non c'è riuscito vabbè qua il lag mi ha perso che bella cosa non sa cosa fare della situazione aaaaaaah no aah che cazzo succede il lag mi ha perso? no non c'ho capito più un cazzo comunque sbaglio l'abbiamo di meno se io ho il telefono non connetto non ho capito dove era andato non ho capito dove era andato arrivederci nonno quello zombie sta per buttare a terra io comunque mi sono inculato un vaccino preventivo io sono atterrata in testa a giù pensavo che faceva un altro giro comunque è stato bellissimo hanno girato l'angolo e non va a beccare stupendo se non fosse stato per il lag mi avrebbe preso ma mi ha fatto me ma ho capito più il cazzo mi sono felice oh la cazzo di scrivania non è proprio quello che vuole dire scrivania devo dire a finora Ah, hai già fatto due gen, mi dà sì. Sì, io sto aspettando... Se ritorni poi lì al gancho ci sono... Ci sono... Forza proiale! Mi sono io che faccio un gen, ti devo curare. Dov'è la terra quello? Non vedo. Vale. Ma l'ha fitto. E' una mimetica blu, cosa vuoi? Devo recuperare tutti di solo, te l'hanno il 3D che secondo me è una merda. Ma io devo recuperare di tutti? OOOOOOOH! Grazie! Adesso se vado a terra è colpa tua sappilo. Devo curarti! Non me ne frega un cazzo! Ok vabbè, vaffanculo madonna santa, che palle! Adesso prossima partita, metto il perk per vedere attraverso i muri alleati si può sentire. E' una partita a vita. Quello quitta te mi fa morire. Dov'è la recupero sicuro, insomma. Dov'è la recupero sicuro, insomma. Poi adesso è andato. Ma chi? E' rimasto JP stavo facendo un genio in culonia. Sì, ho fatto cura di segni culo da solo. Prego a cazzo. Prego a cazzo. Un mozzo! Il tempo finisce, sai? Perdere contro l'incoglionito Non lo vuoi Se magari quando vedi un energumero gigante Mi lasci il cazzo di tasto della cura Ma non me ne frega un cazzo Madonna santa Ma ti ho fatto di spiegare da killer Che cazzo devo dire, madonna Devi far morire dopo che curi Non hai neanche finito di curare poi No, non è Porca taglia l'altra Mi è mutato il mio mondo Grazie mille Un'altra Non, non è ciò Un'altra Un'altra che è successo ma non lo so quello che posso che cazzo ti devo dire mi fa piacere che però se fosse stata magari la sfida tua odiale mi avrebbe lasciato prima e io avrei lasciato prima l'avremmo detto oh c'hai il killer dietro eri praticamente al 99 mi hai curato? hai finito di curare? no scusa se non ho più di curare perchè tu non ci hai finito a terra? perchè ho corso non mi ha colpito instant ho rincoglionito non ho visto quanti it mancavo cazzo non merda ah Clodest ha acquistato perchè aveva deliverance che succede? Clodest ha acquistato perchè aveva deliverance e l'ho salvata io succede? vabbè rì su un'altra pagina puoi tenere la mia live aperta? non penso valga perchè a un certo punto si annulla quella pagina e si deve ricaricare se io sto su un'altra è un romantico perchè? perchè è un romanticone è un romanticone ok è un nome molto dolce e premuroso con i cadaveri? no in generale no in generale non è il nome dell'acqua è l'acqua è l'acqua non è l'acqua Usciamo un atto e devo ricaricare il telefono a un bar? Non saprò dove Sì E mi chiede alla mia madre fin quanto è aperto quello dove la fa lei di soldi E devo fare io giusto con i miei soldi? Io non posso perchè c'ho solo una carta Mi chiede informazioni Ciao Grazie. 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 Io non voglio giocare contro lo spirito Adesso mi lascia andare Ma non voglio giocare contro lo spirito Ma che cazzo non è freddo Perché ha trovato me che fang era lì? Ma che cazzo non è freddo 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 Non mi ha giusto E comunque sempre Vi pare Chi 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 Vabbè è quello lago Poverò Forza troia Non lo so Non lo so